Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, situazione per la giornata di venerdì quando momentaneamente l'alta pressione interesserà gran parte d'Italia e gli stati oltralpi, gli stati centrali del vecchio continente. Qualche locale fenomeno solo all'estremo sud. Poi nel weekend si presenterà una perturbazione da ovest, una saccatura atlantica con piogge che via via entro domenica bagnaranno molte zone dello stivale, soprattutto il nord ed il medio tirreno. Giornata comunque assolata, un po' di variabilità sulla Sicilia, di fatti possiamo notare come localizzati i piovaschi si attarderanno tra Sardegna meridionale, Sicilia e provincia di Reggio Calabria. Nel dettaglio altrove cieli sereni o poco involosi come possiamo notare dalla grafica, con temperature attorno ai 23 gradi al nord, 25 gradi Toscana, Lazio. Per quanto riguarda le minime invece saranno basse, clima frizzante e di notte sui fondovalle alpini e appenninici. Dettagli maggiori li trovate però sull'app di Trapi Meteo.